Odisseus per continuare ad immaginare. Credere è nemico di conoscere. Uomini come questo che vedremo dovrebbero essere condannati per crimini contro l'umanità per raccontare menzogne così vergognose. Un saluto a tutti quanti. Ho riflettuto prima di entrare nello studio per il briefing questo pomeriggio. Questo è il primo briefing per essere andati sulla superficie della Luna e per la prima volta dopo circa 52 anni in questa stanza. È abbastanza incredibile ed è un piacere essere qui. La macchina intuitiva dell'Odisseus Lander è atterrato ieri alle 5.24, ora centrale. Abbiamo avuto un atterraggio stabile controllato, è un touchdown morbido e sicuro. Il veicolo è stabile vicino o nel luogo di atterraggio previsto. Abbiamo le comunicazioni con il Lander, stiamo scaricando e comandando di scaricare i dati dai buffer della navicella spaziale e comandando la navicella spaziale. Stiamo cercando di farvi avere le foto della superficie perché so che tutti sono affamati di quelle foto di superficie. Questa è una foto che penso troverete interessante e che viene rilasciata per il pubblico. Qui stiamo volando a circa 10 km sulla superficie del cratere Schoenberg vicino alla regione del Polo Sud della Luna. Siamo ancora a circa 200 km dalla portata da dove si trova il luogo di atterraggio previsto. Voglio parlarvi brevemente dell'assetto in superficie. Questo è un piccolo Lander, farò finta che sia una roccia su cui si appoggia il Lander. Pensiamo di essere scesi, come ho detto, di circa 6 miglia all'ora in questo modo e circa 2 miglia all'ora in questo modo. Ed ha sbattuto con lo stabilizzatore in superficie, così il Lander si è inclinato in questo modo. Crediamo che questi siano gli orientamenti del Lander sulla Luna. Abbiamo il Sole che si muove in questa direzione attorno al Lander in modo che i pannelli solari vengano alimentati e crediamo che un po' più tardi avremo il Sole e il Solare sul pannello solare del ponte superiore. Abbiamo il Sole che si muove in questa direzione attorno al Lander in modo che i pannelli solari vengano alimentati e crediamo che un po' più tardi avremo il Sole e il Solare sul pannello solare del ponte superiore. La maggior parte dei nostri carichi utili sono tutti in vista e noi stiamo raccogliendo dati scientifici e abbiamo raccolto dati scientifici lungo il percorso. Ieri abbiamo pensato, solo per chiarire un po' di confusione, pensavamo fosse in posizione verticale. Il motivo era che i serbatoi stavano leggendo questa è la direzione X e i serbatoi stavano leggendo la gravità sulla Luna ai livelli di riempimento. C'erano ancora di residui nel serbatoio e abbiamo visto bene quelle misurazioni nella direzione X. Ma erano telemetrie stantie. Quindi quando abbiamo lavorato tutta la notte per ottenere altre telemetrie abbiamo notato che era nella posizione Z. Questa direzione è dove vediamo le quantità residue del serbatoio. Quindi questo è ciò che ci dice in termini abbastanza certi l'orientamento del veicolo e speriamo di ottenere una foto qui questo fine settimana e condividerla con voi. Prima di postare qualsiasi commento invito a visitare la pagina indice alfabetico di cui trovate il link nella descrizione del video con a disposizione migliaia e migliaia di spiegazioni. Qualsiasi domanda come ad esempio stagioni, sole che rimpicciolisce, luna capovolta, stelle al sud, perché non vedo fino all'America, effetto Corioli, pendolo, perché mentono, eccetera, dove esiste già la risposta viene cancellata.